Droga, nove misure cautelari eseguite dai carabinieri e polizia su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta. Questura di Caltanissetta, consuntivo di un anno di lavoro sul fronte della sicurezza e dei servizi di controllo del territorio. Non autosufficienza, inclusione sociale, tavoli tematici alla Casa delle Culture e del volontariato Letizia Colaianni. Si è spenta all'età di 102 anni, Michela Ponte, insegnante, in pensione. Bentrovati in studio con l'edizione di oggi del Telegiornale. Apriamo parlando di cronaca, droga, nove misure cautelari eseguite da carabinieri e polizia su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta. Questa mattina i carabinieri di Caltanissetta e della Polizia di Stato hanno eseguito un'operazione antidroga su richiesta della Procura della Repubblica di Caltanissetta nei confronti di nove soggetti a carico dei quali sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, tentato omicidio, detenzione e porto d'arma. Per due degli indagati è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Per sé la misura degli arresti domiciliari, mentre uno soltanto degli indagati è stato sottoposto all'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L'operazione trae origine da un'ampia attività investigativa condotta tra gennaio e maggio 2021 dal nucleo investigativo di Caltanissetta con il costante coordinamento della locale Procura della Repubblica. Sono oltre 50 i capi di imputazione relative ad altrettanti episodi di spaccio di sostanza stupefacente, per lo più cocaina ma anche crack, hashish e marijuana, che gli indagati avrebbero acquistato a Catania, Enne e Palermo per poi rivenderla nel centro urbano del capoluogo Nisseno. Nell'ambito del medesimo contesto investigativo, la Polizia di Stato, durante le indagini per fare luce su un tentato omicidio avvenuto nel giugno 2021, episodio in cui la vittima ha riportato lesioni personali gravi, ha accertato che l'armosata sarebbe stata procurata all'autore del tentato omicidio da altri due indagati. Così questa mattina, sin dalle prime luci dell'alba, Polizia di Stato e Carabinieri, in totale sinergia fra loro e coordinati dalla Procura della Repubblica di Caltanissetta, hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare. I militari dell'arma hanno operato in territorio Nisseno raggiungendo tutti i destinatari della misura, mentre la Polizia di Stato, grazie alla collaborazione della squadra mobile di Bolzano, ha operato in Trentino Alto Adige per la cattura dell'indagato per il reato di tentato omicidio. Contestualmente è stato eseguito in Belgio un mandato di arresto europeo emesso dall'autorità giudiziaria di Caltanissetta nei confronti di uno degli indagati che durante le indagini si era trasferito in Belgio. Questura di Caltanissetta, consuntivo di un anno di lavoro sul fronte della sicurezza e dei servizi di controllo del territorio. Stamattina il questore di Caltanissetta Emanuele Ricifari, nel corso di una conferenza tenuta sin dalle 10.30 in questura, a cui hanno partecipato il vicequestore Francesco Bagnere, responsabile dell'ufficio stampa sostituto commissario Salvatore Falzone, ha incontrato la stampa per presentare i dati consuntivi dell'attività istituzionale svolta dalla Polizia di Stato nella provincia. La provincia di Caltanissetta sembra avere due volti, dove i reati si consumano in luoghi privati per l'80% in ambienti domestico-familiari, luoghi di lavoro, luoghi di aggregazione sociale e poi dall'altro i danneggiamenti di cose pubbliche e private, soprattutto nell'area gelese. E se la città di Caltanissetta ha una condizione che viene definita come soddisfacente, è invece la zona del sud-est dell'intera provincia, su cui il lavoro della magistratura e delle forze di polizia è continuo e costante. È un consuntivo di quello che è stata l'attività, perché è giusto farne un bilancio e comunicarlo ai cittadini. I dati che emergono sono i seguenti. L'attività di polizia è aumentata nel conseguimento di risultati, è aumentata quella di polizia da strada, sul controllo del territorio, è aumentata leggermente quella di polizia giudiziaria, è aumentata in maniera consistente quella di polizia amministrativa, quindi il rilascio dei documenti necessari ai cittadini e è stata particolarmente impegnativa quest'anno l'attività dell'Ufficio Immigrazione e proprio al personale dei dipendenti dell'Ufficio Immigrazione voglio riservare il mio grazie a tutti, ma a loro in maniera particolare. Determinante è il ruolo dei cittadini che attraverso famiglie, parrocchie e cosiddetti agenti intermedi, collaborando attivamente con il lavoro della polizia, riescono a contrastare le forme meno civili del quieto vivere. Molte le operazioni di polizia che in quest'anno hanno invece determinato risultati importanti sul territorio. Mi vengono in mente le operazioni legate al caporalato, legate alla falsificazione di documenti e presenze in Italia, al reddito di cittadinanza conseguito in maniera impropria o impropriamente utilizzato. Il plauso del questore è andato a tutte le forze di polizia del territorio stesso, dal comando dei carabinieri, la guardia di finanza, la polizia locale e anche alle donne e gli uomini della polizia di Stato. Un plauso ulteriore all'Ufficio Immigrazione che ha effettuato un lavoro molto attento. I dati infatti rispetto a quelli del 2021 vedono ben 171 decreti di espulsione e 135 ordini di lasciare il territorio nazionale. Dato determinante anche quello dei DASPO sportivi emessi 45 rispetto ai 3 emessi l'anno precedente. Cambiamo argomento. Attività socialmente utili sbloccati oltre 5 milioni per le ore di straordinario dei lavoratori. L'assessore regionale Albano pagamenti prima di Natale. L'assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali del lavoro ha sbloccato le somme per il pagamento delle ore di straordinario per 3.016 lavoratori ASU relativa al quadrimestre del settembre-dicembre 2022. Gli uffici stanno provvedendo tempestivamente al pagamento della somma relativa ai primi tre mesi. In considerazione del fatto che per il mese di dicembre 2022 le attività sono ancora in corso, verrà infatti liquidata a titolo di acconto per i mesi settembre-ottobre-novembre 2022 la somma di 5.582.254 euro. Mentre così come previsto dalla legge, il pagamento definitivo si provvederà nel successivo esercizio finanziario. Nei prossimi giorni gli uffici provvederanno a liquidare le somme spettante ai tanti lavoratori che svolgono responsabilmente ad anni un'attività fondamentale di pubblico interesse, dichiara l'assessore Nuccia Albano. Prima di Natale il personale ASU riceverà i dovuti pagamenti. Ed è lo stesso pensiero il Presidente della Regione Sicilia Schifani, che sottolinea il prezioso lavoro svolto dal personale per il funzionamento degli uffici in cui presta servizio. Inoltre, a concluso, approfondiremo l'avvertenza che li riguarda per provare a trovare una soluzione legislativa e amministrativa che sia sostenibile. E adesso parliamo di un congresso a Caltanissetta sul referto strutturato e la comunicazione efficace del radiologo. Dopo tantissimi anni, la comunità dei radiologi siciliani è tornata a riunirsi a Caltanissetta per il 46esimo raduno della SIRM Sicilia, Società Italiana di Radiologia Medica, presieduta dai dottori Salvatore Dell'Aire e Rosario Greco. Il congresso tratta tematiche che riguardano diverse patologie del referto strutturato, che rappresenta una innovazione rispetto al referto narrativo utilizzato fino ad ora, per garantire la tutela della salute del paziente. In questi due giorni saranno presenti relatori e moderatori di rilevanza nazionale e regionale. Siamo in una fase importante della sanità siciliana e quindi anche della radiologia. La radiologia oggi rappresenta il collo di bottiglia dell'organizzazione, sia a livello dell'area dell'emergenza ospedaliera, sia a livello territoriale. Problematiche delle liste d'attesa che stanno tanto impegnando l'opinione pubblica. Però queste cose si risolvono in due modi, potenziando la struttura pubblica, potenziando le risorse umane delle strutture pubbliche e dall'altro lato recuperando quella che si chiama appropriatezza. L'appropriatezza significa riuscire a dare la cosa giusta al momento giusto, al paziente giusto. Solo così riusciamo ad evitare molti esami inutili e soprattutto a dare in tempi rapidi risposta a chi ne ha veramente bisogno. Abbiamo scelto Caltanissetta per l'impegno profuso dal dottore Dell'Aira e dal dottore Greco. Oggi abbiamo ottenuto un importante risultato con l'assessore alla salute, la dottoressa Volo, che ci ha garantito la costituzione di un tavolo tecnico permanente con i radiologi per costruire un futuro migliore e poter migliorare le prestazioni di noi radiologi. Non autosufficienza e inclusione sociale. Tavoli tematici alla Casa delle Culture e del Volontariato Letizia Colaianni. Alla Casa delle Culture e del Volontariato Letizia Colaianni si sono riuniti tre tavoli tematici che compongono la rete territoriale, uno sulle responsabilità familiari, uno per la non autosufficienza ed il terzo per l'inclusione sociale. L'incontro arriva dopo la costituzione della rete per la protezione e l'inclusione sociale che con il Comitato dei Sindaci e l'ufficio piano nella nuova struttura di governance prevista dalle linee guida della legge quadro per la programmazione del piano zona 2021 per organizzare il funzionamento del distretto sociosanitario 8 a cura del Comitato dei Sindaci. Lo scopo è quello di favorire un'erogazione omogenea di servizi ed interventi e di supportare il distretto sociosanitario nell'elaborazione del piano di zona e del piano attuativo locale e del piano distrettuale per la non autosufficienza. I soggetti della rete che appartengono al terzo settore sono stati individuati successivamente a una manifestazione di interesse inviata al Comune di Caltanissetta. Ne fanno comunque parte di diritto i referenti del forum del terzo settore. La rete territoriale si articola in tre tavoli tematici collegati da altre tante aree di intervento, una riguardante le responsabilità familiari, una per la non autosufficienza e l'ultima per l'inclusione sociale. Tra i componenti del tavolo tematico sulla non autosufficienza è stata nominata come portavoce Maria Grazia Pignataro, presidente dell'ISPED, il cui compito sarà quello di raccordarsi con cadenza periodica con i responsabili dell'ufficio di piano riguardo alle attività realizzate dal tavolo e successivamente si passerà la nomina del portavoce anche delle altre due degli altri tavoli tematici. Dice Pignataro, questo è un momento fondamentale di realizzazione di una delle forme più significative di democrazia partecipata, dove cittadini e cittadini potranno esprimere i loro bisogni e le loro aspettative collaborando con le istituzioni per raggiungere obiettivi concreti e a favore delle persone con fragilità e garanzia della loro qualità di vita e dei loro diritti di cittadinanza. E adesso passiamo al bollettino regionale Covid. Lieve incremento dei contagi, il tasso di nuovi positivi più elevato si è registrato nelle province di Enna, Palermo e Ragusa. Nella settimana dal 5 all'11 dicembre si assiste a un lieve incremento delle nuove infezioni con un'incidenza pari a 11.361, 1,13% e un valore accumulativo di 237 su 100.000 abitanti. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Enna, Palermo e Ragusa. Le fasce d'età più a rischio sono quelle tra i 70 e i 79 anni, tra i 60 e i 69 e gli over 90. Il lieve aumento le nuove ospedalizzazioni. Più della metà dei pazienti in ospedale risultano non vaccinati. I dati relativi alla campagna vaccinale prendono in esame la settimana dal 7 al 13 dicembre. Nella fascia d'età 5-11 anni i vaccinati con almeno una dose sono il 24,52%. Ha completato il ciclo primario il 21,17% del target regionale. Gli over 12 vaccinati con almeno una dose sono il 90,89%. Ha completato invece il ciclo primario l'89,54% del target. La terza dose è stata ricevuta da 2.770.894 persone, pari al 72,38% degli aventi diritto. Dal 7 settembre il Ministero della Salute ha autorizzato l'utilizzo dei vaccini bivalenti per la somministrazione della terza dose e dal 23 settembre l'autorizzazione è stata estesa, su richiesta anche per la quarta dose, a tutti gli over 12 che abbiano ricevuto la terza dose da almeno 120 giorni. Dal 1 marzo la quarta dose somministrate sono state 204.718, delle quali 181.933 ha soggetti over 60. Dal 23 settembre è consentito l'utilizzo dei vaccini bivalenti anche per la quinta dose alle persone con marcata compromissione della risposta immunitaria. Infine, dal 17 ottobre il Ministero ha autorizzato la somministrazione della quinta dose con vaccino bivalente anche agli over 80, agli ospiti in RSA e agli over 60 con fragilità. Le quinte dosi finora somministrate sono 4.861. Prima conferenza regionale sul fenomeno migratorio su iniziativa della regione siciliana La politica dell'accoglienza è un tema non più differibile e stella polare dell'azione di governo non solo europea ma anche regionale. La Sicilia, infatti, per posizione geografica e storia, è da sempre la terra promessa per i tanti migranti che sognano di raggiungere una nuova vita. È in quest'humus che stamattina a Palermo si è tenuta la prima conferenza annuale sul fenomeno migratorio. L'evento, organizzato dall'Ufficio Speciale Immigrazione della regione siciliana, si è tenuto allo splendido Hotel La Torre. È stato l'assessore regionale alla famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Nuccia Albano a sottolineare l'importanza di una politica a favore dell'accoglienza. L'accoglienza che deve essere appunto non emergenziale ma deve essere un'accoglienza integrata nel senso di poter aiutare questi profughi non solo a riceverli nell'immediatezza ma a poterli inserire nel tessuto sociale, nel tessuto lavorativo. L'assessore ha poi proseguito spiegando la strategia che il governo regionale ha intenzione di attuare. Essere sostenuti una volta che questi profughi arrivano sotto l'aspetto economico appunto non soltanto per l'emergenza ma per la permanenza di questi stranieri che possono essere anche una ricchezza per la nazione, ritengo. L'iniziativa è stata l'occasione per fare il punto sull'applicazione della legge 20 del 2021. Durante la mattinata inoltre sono state illustrate le linee strategiche e la nuova programmazione che saranno contenute nel piano regionale in fase di elaborazione da parte della struttura diretta da Michela Buongiorno. L'ascolto è servito all'ufficio per conquistare credibilità, per conoscere meglio il territorio, per ricevere dal territorio critiche giuste ma anche consigli e spunti. Questo ci ha consentito di acquisire credibilità ma ci ha consentito anche per la prima volta di poter redigere un piano triennale non deciso intorno a un tavolo da esperti ma che deriva ed emerge direttamente dai bisogni del territorio. Il documento prodotto dall'ufficio speciale migrazione, ha concluso l'assessore Albano, è il frutto di un lavoro di ascolto e di analisi delle esigenze del territorio che ci ha permesso di individuare indicazioni preziose sul modello di governance per l'attuazione del futuro piano. Caltanissetta si è spenta all'età di 102 anni Michela Ponte, insegnante, in pensione. È scomparsa l'insegnante di 102 anni Michela Ponte che solo qualche mese fa con la sua storia aveva commosso la città, la signora Michela aveva dedicato la sua vita all'insegnamento proprio a Caltanissetta, così con un messaggio sui social pieno di amore e gli operatori responsabili della struttura dove viveva l'hanno salutata ricordandone la dolcezza e l'animo amorevole. Per tutti era nonna Michela e sono tanti, i nonni e le nonne come lei in un paese come l'Italia ha crescita a zero, con una popolazione di centenari sempre più in crescita, soprattutto negli ultimi 12 anni durante i quali il dato a livello nazionale ha visto raddoppiare il numero delle persone con più di 105 anni di cui 9 su 10 sono donne. Storie di vita e di amore che passano anche attraverso i social e che lasciano il segno ed il senso di un'intera vita dedicata ai giovani e al sapere. Cambiamo ancora una volta argomento. Decadenze di Bercov parlano i protagonisti dello spettacolo andato in scena al teatro Margherita. Decadenze è uno spettacolo che non risparmia fondi al pubblico, un atto d'accusa che sebbene Bercov lo abbia pensato analizzando la società degli anni 70, oggi è anche di profetico e attuale. Alice Sgroi e Francesco Bernava ipnotizzano gli spettatori con il ritmo incalzante del verso e dei corpi, non si risparmiano mai dal primo all'ultimo minuto di Decadenze, lo spettacolo con la regia di Giovanni Arezzo che ha ricevuto grandi applausi dalla platea del teatro Margherita. La scelta di una scenografia spoglia che si contrappone alla potenza attoriale ed interpretativa che provoca il pubblico fino all'estremo come solo il teatro sa fare. Lusso, alcol, droghe, sesso e decadenze. Questo è uno spettacolo pieno di parole, di pensieri, di parole anche in rima perché ricordiamo che è uno spettacolo in versi, che vomita situazioni che poi di fatto non si avverano, restano solo nella mente dei personaggi e quindi raccontando tutto questo possibile vissuto che poi non si realizza, resta dentro un senso di insoddisfazione che si trasforma mano a mano in decadenza. Poi il mio personaggio, Helen, totalmente innamorata del marito Steve, che è il protagonista di questa opera e farebbe qualsiasi cosa per lui, ma lui è totalmente dedito a tutto ciò che ha a che fare con le decadenze, quindi gli eccessi che poi portano alla decadenza. Scenografia essenziale, pochi gli oggetti sono le luci a portare il pubblico dentro il successivo quadroscenico, tra i colori dominanti il beige, il verde e il fucsia, poi musica, voci, parole che disinnescano ogni tabù e i quattro personaggi con le loro dannazioni che, come scrive Berkhoff, sono diamanti frantumati che si squagliano nel vizio. Abbiamo lavorato con il regista per avvicinarci a questi ruoli, soprattutto col senso dell'ironia e il testo è inverso e quindi usando anche molto la musicalità del testo e questo ha evocato tutta una serie di immagini e situazioni che sono estremamente potenti. Questi personaggi, Steve e Les, ovviamente in direzioni opposte, ma sono estremi, proprio per questo la loro decadenza arriva a punti quasi di non ritorno e tocca temi che sono assolutamente attuali, vari, perché si passa da un tema all'altro quasi senza soluzioni di continuità e ci sbatte in faccia un po' tutte le nostre debolezze, debolezze della società. Questo lavoro teatrale di rara bellezza, già vincitore del premio Catania, premia Catania, promosso dal Teatro Stabile di Catania, ha conquistato il pubblico nisseno della stagione svelamenti. Si avvicina sempre di più il Natale, si preannuncia un altro presepe vivente in città all'interno della parrocchia di San Pietro, l'apertura il 22 dicembre. Il 22 e 23 dicembre, intorno alle 19 e 30, dopo la novena, nella parrocchia di San Pietro i parrocchiani, e non solo, per un paio d'ore, potranno visitare il presepe vivente. La giornata conclusiva sarà quella del 24 dicembre, dopo la veglia natalizia, con una piccola processione verso la location scelta per l'allestimento del presepe, e cioè l'anfiteatro. Ogni anno accolgo sempre con gioia le novità che i parrocchiani e in maniera particolare i giovani propongono, e quest'anno la proposta nasce dal gruppo Scout CL1 presente, ormai da decenni qui in parrocchia, presso la parrocchia San Pietro di Caltanissetta. L'iniziativa, a mio parere, ben si sposa con due grandi avvenimenti che e la parrocchia e il gruppo hanno vissuto in questo anno. Infatti, si conclude con questo dicembre il 45esimo anniversario della fondazione della parrocchia. Fu fondata nel 1977, quindi nel 2022 abbiamo celebrato i 45 anni, e allo stesso tempo il CL1 si è trovato a festeggiare il trentennale dal 1991 al 2021, proprio dell'esperienza Scout come gruppo CL1. E quindi questa iniziativa la vedo come il coronamento di queste due celebrazioni che si concludono proprio con il Natale del Signore e le vedo come una nascita. Se ci fermiamo a contemplare la nascita del bambino Gesù, possa essere per tutti noi una nascita interiore, una rinascita, continuare a essere testimoni gioiosi di Gesù. Un'iniziativa che è nata proprio dai ragazzi del gruppo Scout, circa 40, ai giovani coinvolti che ne stanno curando la realizzazione. Sono ragazzi che vanno dai 12 ai 15 anni e si stanno dando da fare con costumi che possano riprodurre i pastori, stanno cercando di costruire i vari ambiti di questo presepe vivente. Stiamo cercando di trovare anche qualche animale per renderlo più verosimile, questo poi vedremo se riusciremo a inserire anche questo aspetto nel nostro presepe. Però quello che a noi premeva era di portare questi ragazzi a vivere il momento Natale sotto il profilo anche del significato e non soltanto sotto l'aspetto dello stare insieme e del costruire un presepe vivente. Il gruppo che comprende circa 130 giovani e una ventina di responsabili è presente in parrocchia da poco più di 10 anni ma aveva cominciato a svolgere la propria attività a San Giuseppe. I 30 anni sono stati celebrati anche se con un anno di ritardo, con un momento celebrativo e commemorativo a settembre e anche con un libro, Caltanissetta 1, 30 anni in 300 scatti. L'abbiamo festeggiato con un po' di ritardo per ovvi motivi, ci è servito questo periodo per celebrare un percorso lungo 30 anni e di porre le basi per un rilancio e una proposta che io speriamo per altri 30 anni di attività scout. Intanto in parrocchia verranno aggiunti altri elementi proprio questa domenica al presepe allestito vicino all'altare. Serata Gospel, sabato 17 dicembre nella chiesa di Sant'Agata con l'undicesimo concerto di Natale organizzato dall'Associazione Gesù Nazareno, quest'anno con il Joy Scorus e la direzione artistica del maestro Raimondo Capizzi. Sarà una serata di musica e canto e come nello stile del Joy Scorus sarà anche un momento di beneficenza. Durante la serata infatti si raccoglieranno generi alimentari di prima necessità che saranno donati all'Associazione Sant'Agata che opera nell'ambito dell'omonima parrocchia a favore dei più bisognosi. Un altro concerto di Natale si svolgerà domenica 18 dicembre, questa volta organizzato dal Lions Club di Caltanissetta nell'Aulamagna del Consorzio Universitario Nisseno. Un pomeriggio di musica, quello di domenica 18 dicembre, il Lions Club di Caltanissetta ha infatti organizzato un concerto di Natale, un evento che si svolgerà nell'Aulamagna del Consorzio Universitario Nisseno e che permetterà di sostenere il restauro di una tela settecentesca di San Michele. Muove i primi passi l'allestimento di un piccolo museo della cattedrale dedicato a San Michele nei locali adiacenti Il Duomo, sul lato sinistro della facciata, racconta infatti padre Gaetano Canalella, parroco della cattedrale. La parrocchia sta organizzando infatti parallelamente una raccolta fondi attraverso la vendita nel weekend di torte tra San Sebastiano e la cattedrale. In genere tutte le cattedrali hanno una sala espositiva o un museo tesoro della cattedrale, ci spiega ancora il parroco, che Caltanissetta ancora non ha. L'idea è quella di esporre oggetti, quadri, statue e paramenti che facciano riferimento al Santo Patrono. Il concerto si sta realizzando sotto la direzione artistica del professor Fabio Maida, socio del nostro club, noto musicista, che tra parentesi anche lui esibirà in duo alla chitarra. Saranno presenti anche altri artisti e quindi anche la corale Don Milani. Il nostro obiettivo è quello di raccogliere fondi per il restauro di una tela raffigurante San Michele Arcangelo, risalente al 1700 e di grande valore artistico. Questa tela diventerà parte integrante del nascente Museo della Cattedrale. E appunto per sostenere questo progetto abbiamo deciso di finanziare il restauro della tela. Quello natalizio è un periodo intenso per il club nisseno che in programma anche altre attività, come ad esempio una cena solidale nella cripta della cattedrale realizzata in collaborazione con la parrocchia, un invito rivolto a circa 70 persone. Noi abbiamo in questo periodo tante iniziative e sabato provvederemo alla donazione di alcune biciclette. Queste biciclette verranno donate al carcere minorile di Caltanissetta. Peraltro poi abbiamo anche in programma per giorno 20, per martedì 20, la nostra tradizionale cena natalizia. È una cena che noi organizziamo in favore di persone in condizioni di relativa difficoltà, di disagio e noi in questo caso provvediamo oltre che appunto all'organizzazione della cena anche a una normalmente simpatica animazione serale che coinvolge i bambini presenti. Ultimo appuntamento del 2022 dell'iniziativa del Cral Giustizia Scoprire e Riscoprire Caltanissetta. Domenica 18 dicembre ci sarà una visita dell'Istituto Tessa Secca al Viale della Regione guidata da Enzo Falzone con la possibilità di vedere il presepe del Matera del Settecento. L'appuntamento è alle ore 10 davanti all'Istituto Tessa Secca per l'appunto. La partecipazione è gratuita, l'invito è rivolto a tutti i soci e non del Cral. Babbo Natale in moto, previsti circa 300 partecipanti a San Cataldo. Ciao sono Luigi Bullo, io sono Giuseppe Faraggi, io sono Salvatore. Vi volevamo ricordare per giorno 18 la seconda edizione di Babbo Natale in moto che si terrà a San Cataldo. Dopo il successo fatto registrare la scorsa edizione, circa 300 centauri si raduneranno domenica alle 9 davanti al monumento e caduti e vestiti da Babbo Natale sfileranno per le vie della città. Insieme a loro ci saranno le motopedette delle forze dell'ordine e dopo il raduno si avvieranno presso il Palazzo Comunale, dove alla presenza delle istituzioni i Babbi Natale consegneranno doni, caramelle e panettoni ai bambini e alle comunità Germoglio e Alba. Un evento organizzato a scopo benefico. Mi raccomando, venite tutti, non mancate, vi aspettiamo. Ciao! Tutti presenti, ci divertiremo e venite con le pangele water perché ci saranno tanti doni. L'iniziativa è stata organizzata da Luigi Vullo, dalla famiglia Faraci e altri collaboratori. Andiamo allo sport calcio, il prossimo turno Serie D, la San Cataldese in casa contro il Locri, eccellenza sabato la Nissa Sciacca, il Gela ospita il Castellammare. Dopo la vittoriosa trasferta sul campo della Mari Ilanese, la San Cataldese domenica pomeriggio sarà di scena il Valentino Mazzola contro il Locri, avversario molto ostico che attualmente ospita la seconda posizione in classifica dietro l'inarrivabile Catania. Sarà una partita importantissima e si preannuncia una buona cornice di pubblico per l'ultima partita del 2022 in Casa Verde a Maranto, dove ci sarà il saluto per il capitano Salvatore Di Marco dopo la rescissione del contratto. Ecco il quadro completo della sedicesima giornata del Girone I del campionato di Serie D. San Luca Castrovillari, Ragusa Ricata, Trapani Vibonese, Acireale Paternò, Canicattì Cittanovese, La Mezzia Terme Sant'Agata, Reala Versa Mariglianese, Sangataldese Locri, Santa Maria Cilento Catania. Nel campionato di eccellenza la Nissa scenderà in campo sabato pomeriggio nell'ostica trasferta di Sciacca per l'ultima del Girone di Andata. Galvanizzati dalla vittoria di domenica in casa sul Mazzara, i biancoscudati cercano una vittoria importante sul campo di una squadra che si sta rafforzando sul mercato e tenta di essere la mina vagante del Girone di ritorno. Ecco il quadro completo della quindicesima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Cus Palermo Mazzarese, Unitas Sciacca Nissa, Resuttana San Lorenzo Acragas, Don Carlo Misilmeri Parmonval, Enna Profavara, Leon Fortese Oratorio San Ciro, Nuova Città di Gela Castellammare, Mazzara Casteldaccia. Volley B2 femminile, Alba Verde Caltanissetta sul campo dell'Ericina serve una vittoria per consolidare il primato. Trasferta ad Erice contro la Procori per l'Alba Verde Caltanissetta, che vuole chiudere al meglio questo 2022 con un'altra vittoria e allungare la sua striscia positiva e anche in classifica. Le giocatrici nissene dopo la vittoria di sabato al Palacanizzaro contro la Saracena sono concentrate a raggiungere l'obiettivo stagionale, ovvero i play-off, ma si sogna qualcosa di molto di più. Ecco il quadro dell'undicesima giornata del campionato di serie B2 Girone M. Pallavolo Crotone Cuscatania, Procori Ericina Alba Verde, Zafferana Stefanese, Funivia Etna Gioiosa, Brico City Ardenz Comiso, Saracena Fidelis Torretta, Volley Region Planet. Bene era questa l'ultima notizia per oggi, non ci sono ulteriori aggiornamenti, ci rivediamo nella prossima edizione del telegiornale. Intanto vi lascio al meteo le notizie di pubblica utilità e come sempre grazie per averci seguito. Ben trovati a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di sabato, quando le correnti saranno ancora umide da ovest e della variabilità interesserà le nostre regioni. Poi dalla Spagna arriverà l'anticiclone, possiamo vedere con la lettera A, in movimento proprio dal nord Africa e dalla Spagna in direzione Italia e da domenica in avvio della prossima settimana stabilità assicurata ovunque ma con nebbie in pianura padana. Variabilità sul nord est parte del centro sud, zoom precipitazioni, possiamo notare ancora qualche locale fenomeno in alcune zone della nostra penisola. In sintesi la mappa dell'Italia, variabilità sporadici, fenomeni sull'estremo nord est parte del centro Italia, miglioramento altrove, dicevamo poi da domenica, esaurimento dei fenomeni su un po' tutto lo stivale con condizioni di maggiore stabilità e bel tempo. Tutti i dettagli sull'app gratuita di Trevi Meteo.